salva tutti affezionati al canale earth live 2.0 forse uno dei siti più impressionanti della cultura maya si trova a chicheniza un luogo che racchiude molti misteri si trova nella penisola dello yucatan in messico ed è uno dei complessi più importanti della civiltà maya chicheniza significa bocca del pozzo degli stregoni dell'acqua questo nome si riferisce al sacro cenote il grande pozzo naturale che gli abitanti della regione consideravano uno degli ingressi più importanti agli inferi presumibilmente il luogo dove vivevano le più importanti divinità maya dal wazzeco chichen significherebbe serpente piumato l'elite dominante di chicheniza formata da guerrieri sacerdoti e mercanti fu quella che introdusse il culto del dio kukulkan secondo la cultura maya il cosmo si compone di tre parti il cielo la terra e il mondo sotterraneo quest'ultimo è il luogo dove vivevano gli dei più importanti i maya cercavano di mantenere l'equilibrio tra quel mondo nascosto nella profondità della terra e il loro in superficie perché se le divinità del sottosuolo non erano felici le conseguenze per loro erano terribili la siccità la fame o le malattie avrebbero spazzato via buona parte della popolazione motivo per cui credevano che facendo le offerte di sacrifici umani o animali richiesti da questi esseri avrebbero soddisfatto il loro appetito e lasciarli in pace sappiamo che questo non è nuovo in altre culture gli dei richiedevano sacrifici anche la bibbia racconta come abramo quasi sacrificò il suo unico figlio per comando di dio cosa che era comune solo che in quell'occasione fu perdonato anche durante il pellegrinaggio attraverso il deserto di mosè e del suo popolo verso la terra promessa dio obbligava il suo popolo ad attaccare tutte le tribù che avessero trovato sul suo cammino e a portare via la vita come offerta il primo sacrificio di cui si parla nella bibbia appare nella genesi quando caino offre dio frutta e verdura in dono e abele sacrificò il primo genito delle sue pecore dio rifiutò le verdure e preferì il sangue degli animali come le divinità di altre culture questa entità si nutrono dell'energia di paura che gli esseri viventi sprigionano quando vengono sacrificati e ciò che amano di più sono gli animali e i bambini curiosamente per i maia i cenoti erano l'ingresso degli inferi e dove si facevano i sacrifici umani per poi gettare i loro corpi nella profondità con l'intenzione di ottenere il favore del terrificante dio ciak motivo per cui la piramide di kukulkan detta anche castello era collocata nel luogo corretto secondo la geometria sacra poiché questa costruzione è circondata da cenoti a nord est sud e ovest inoltre è costruito sopra un altro cenote alcuni archeologi ritengono che il castello potrebbe rappresentare l'asse del mondo o il centro del mondo dopo aver analizzato i resti trovati nel stato cenote di ciccenizza hanno scoperto che l'ottanta per cento erano bambini tra i 3 e gli 11 anni cosa molto comune recentemente un gruppo di esploratori hanno scoperto due corridori sotterrani che partivano dalla piccola piramide detto osario e speravano di arrivare sotto il castello ma l'ingresso era coperto da mucchi di pietre nessuno sa perché lo fecero nel castello si apprezza la profonda conoscenza della matematica della geometria acustica e dell'astronomia che maya possedevano i loro volti sono orientati verso i quattro punti cardinali e 365 gradini corrispondono al numero di giorni dell'anno nel 1935 nel tempio di kukal khan nella sala delle offerte o camera nord fu ritrovata una figura di ciacco moll con intarsi di conchiglie nelle unghie nei denti e negli occhi nel 1936 fu scoperta la camera sacrificale all'interno della quale erano conservate osse umane e la scultura di un giaguaro pantera onca di colore rosso con 74 intarsi di giada che simulano macchie all'interno del castello sono state scoperte due piramidi la più antica e alta 10 metri scoperta grazie alla tomografia elettrica tridimensionale in grado di illuminare l'interno della piramide senza danneggiarla la seconda misura 20 metri fino alla piattaforma del tempio dove furono rinvelute le figure di chuck moll e del giaguaro quella che vediamo oggi misura quasi 30 metri con la stessa tecnica scopriamo che la piramide di kukal khan è costruita su un cenote due volte l'anno i turisti attendono la discesa di kukal khan durante l'equinozio di primavera e autunno poiché alcune facciate sono deteriorate non si osserva alcun fenomeno di luce ombre nelle albe dell'equinozio tuttavia è probabile che se si restaurassero le scale e le balustre si apprezzerebbe l'ascesa del corpo del serpente alla piramide per la scalinata della facciata sud sud ovest questi fenomeni di luce e ombre che si osservano nella piramide sono la prova della conoscenza che avevano nella struttura conosciuta come osservatorio caracol o edificio circolare ci sono effetti di luce e ombre si vedono anche durante gli equinozzi nella zona archeologica di maya pan c'è una piramide più piccola ma di uguali proporzioni e ovviamente dedicata a kukul khan la proiezione ondulata del corpo del serpente può essere visto anche durante il tramonto in prossimità dei solstizi tuttavia non è così spettacolare a causa del deterioramento della struttura un altro fenomeno interessante si produce quando batti le mani davanti alle scale il suono si diffonde lungo i gradini rimbalza ed è distorto cioè invece di sentire gli applausi si sente un cinguettio simile al canto di un quetzal non solo troviamo serpenti nella piramide di kukul khan li troviamo anche nella decorazione architettonica delle colonne e degli architravi e di altre costruzioni di cichenizza nel tempio del giaguaro così chiamato perché sulla sua facciata si trovano questi animali ci sono anche due giganteschi serpenti piumati che formavano le colonne dell'atrio altri serpenti compaiono nel tempio dei guerrieri uno dei più imponenti e meglio conservati e accanto c'è il gruppo delle mille colonne che in realtà è un tempio collegato a quello dei guerrieri e prende il nome delle 200 colonne che si trovano sulla spianata della struttura nel gioco della palla è simboleggiato il mitico combattimento tra la notte e il giorno inoltre se si parla nel tempio all'estremità meridionale la voce si può ascoltare dall'estremità opposta mentre il suono risuona lungo le pareti del tempio nord sulla piattaforma delle aquile dei giaguari questi animali sono raffigurati mentre divorono cuori umani il tempio dell'uomo barbuto è forse quello meglio conservato degli edifici circostanti il grande gioco della palla il tempio prende il nome da uno strano uomo barbuto che presiede la scena non possiamo non citare la iglesia un piccolo edificio accanto alle monache che ha un'unica camera e una porta di accesso o il mercato a forma di t e nella parte anteriore si trova una piattaforma lungo 80 metri larga 15 composta da una fila di pilastri vedendo tutta la simbologia di cicheniza non si può negare il grande potere che questi presunti dei avevano sulla popolazione in tutti gli angoli del pianeta sia negli edifici che negli scritti antichi del passato ci hanno lasciato testimonianza dell'esistenza di questi esseri non umani che si nutrivono della sofferenza e delle basse vibrazioni dei loro sudditi sempre più persone si rendono conto che questi esseri non umani hanno sempre governato le nostre vite attraverso la paura e l'inganno in passato le persone sapevano della loro esistenza attualmente rimangono nascoste tirando i fili dall'ombra solo una cosa li spaventa ed è che si sappia la verità io vi ringrazio per l'attenzione vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima grazie a tutti